Sono molto onorata di partecipare al convegno organizzato da Città Metropolitana per la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo Passa la palla che ci vedrà presto a confronto su temi così importanti e rilevanti. Lo faccio sia in quanto senatrice della 17esima legislatura, promotrice della legge 71 che su questi temi ha messo al centro la scuola, i ragazzi e le famiglie per poter far fronte anche con una comunità educante più ampia a quelle che sono le prevaricazioni tra pari. Sono temi molto rilevanti e anche attuali perché in questo momento si sta proprio a Montecitorio discutendo di modifiche anche della legge 71 quindi ne parleremo ma anche lo faccio rappresentando come collaboratrice l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte che tanto ha lavorato insieme con la regione Piemonte e poi con le sottoretti a livello locale per poter adempiere anche alla legge regionale, la legge 2 del 2018 che a sua volta ha creato delle governance a livello regionale per poter far fronte a questo problema e a questo fenomeno. Quindi parlerò di quelle che sono le strategie e quelle che sono le azioni in atto e quindi sarà un momento anche per fare il punto specifico sulla situazione piemontese.